Giuseppe, allora sei pronto a vedere un po' il mondo sottosopra? No! Oddio, oddio! Ok, la storia è questa. Per la prima volta nella sua storia, l'aeronautica militare ha deciso di aprire le proprie porte a tre creators per raccontarsi in modo diverso. I miei due compari, Klaus e Malloru, hanno vissuto una giornata come dei veri allievi. Io invece voglio entrare nella scuola aeronautica 2E di Firenze per capire cos'è la felicità per un aspirante pilota. Dai, dammi qualche consiglio. Cosa mi devo aspettare da questo? Perché tu ormai sei più pilota di loro. In realtà questa qua è una novità anche per me, ti avviso, perché io sono dall'Accademia di Dipossuoli, però neanche io sapevo dell'istruzione di questa scuola qua, della scuola 2E, che è una sorta di college per i ragazzi che vogliono iniziare questo percorso. Quindi sarà una novità anche per me, ti avviso. Ti dico solo che sarà, non dico tosta, però cercheremo anche noi prima persone di vivere un po' quello che è il loro sogno, e cercare di capire un po' il perché questi ragazzi si iscrivono a questa scuola. Buongiorno. Arrivati alla scuola faccio capire subito di essere anch'io un duro e di non aver paura di niente. Adesso vi accompagno in intermediato per fare i test. Mi dica che non è un tampone, perché soffro tantissimo. Ok, non ho sentito niente. Tamponato e negativo è il momento di incontrare il generale dell'istituto, Urbano Floreani. Una leggenda nella scuola, perché è ex pilota della PAN, Battuglia Acrobatica Nazionale, ovvero le spettacolari frecce tricolori. E il colonnello della scuola, Davide Rossellini. Io sono già accorto che ho fatto una gaffa e non ho salutato la bandiera. L'avevo anche letto benissimo prima di entrare. Vabbè, iniziamo bene. Colonello, lei è un po' la guida di tutti i ragazzi della scuola. Sì, sostanzialmente sì. Però io mi chiedevo perché un ragazzo di 15 anni che può andare in un liceo classico, in un liceo scientifico, sceglie la scuola 2, sceglie una scuola dove probabilmente ci saranno tanti sacrifici da fare e il sogno potrebbe essere più grande, ma a 15 anni forse è difficile avere quella maturità. Perché è vero che qui ci sono sacrifici, ma è vero anche che qui fai delle esperienze che un liceo normale fuori non ti offre. Al secondo anno, sempre per fargli crescere, per dargli degli strumenti per affrontare poi il mondo esterno alla scuola, gli facciamo fare un corso di tecniche di memorizzazione, lettura veloce e tecniche di apprendimento. E poi all'ultimo anno gli facciamo fare un corso di public speaking e consapevolezza emotiva. Una scuola militare aeronautica, avere la possibilità di avere un brevetto in mano prima della patente. Se potessi adesso fare la scelta centrale a 2, stai tranquillo. Basta che ti togli l'orecchino e poi sei fuori. Siete un po' una sorta di seconda famiglia per i ragazzi, però vedo che lei ci tiene tantissimo. Noi e io li seguiamo personalmente anche fuori dal veroario di servizio. Devo dire anche che ho un po' di sacrificio per la mia reale famiglia, ma io poi ogni sera passo a vedere come studiano, cosa studiano, passo a dare una pacca sulla spalla ai vari ragazzi. Vado in un'infermeria, in tempo dove non c'era il Covid, portavo anche mia moglie, perché c'erano delle ragazze, secondo me era giusto che magari alcune cose le dicevano a lei. Noi abbiamo tante attenzioni per i genitori e per i ragazzi. Piacere ragazzi, vi saluto così. Ciao, ciao. Piacere. Piacere, siamo Giuseppe. Ciao Marco, certo. Grazie a me oggi non si fa niente, mi sa. È un piacere. Vabbè, vabbè, domani dice no. Vediamo, sì, possiamo partire dalla lezione di arte, dall'illuminismo al 900. Noi siamo dei critici, sì, critici di arte illuminista. Qual è la vostra routine qua? Come si svolge la vostra giornata tipo? La sveglia è alle 6 e mezza, le pratiche mattutine variano da corsa a corso. Però non fate tutti il classico, il classico scientifico, il classico scientifico, il classico scientifico, il classico scientifico, il classico scientifico ha il blu. Ovviamente poi c'è D2, 3, terzo anno, secondo, primo. Ah, siete tutti scientifico? Qua siamo tutti i scientifici, il classico ha il blu. Che concentrazione, sembra come se i ragazzi siano consapevoli che quello che stanno apprendendo sarà prezioso per il loro futuro. E mi sorprendo perché io purtroppo non ero mai riuscito a capirlo quando andavo alle superiori. Questa è una lezione di storia di francese. Abbiamo a costruito di studiare francese in questa scuola. E più di vederlo applicato alla storia. Cioè già è difficile la storia, poi il francese. Buongiorno. Parle francese? Un po' di po'. Allora voi puoi entrare in un altro modo. Grazie a tutti. Giuseppe non si sta capendo niente. Mi invito e vi dirà, no, io magari ho solo anche il francese. Non si sta capendo niente. Ci ha capito niente? No, però ho detto wii wii. Una camerata tipica. Ma per vedere, come quello che ho visto nei video dei miei amici con i cubi. Adesso ti porto a vedere una camera dove dormono alcuni anni del primo anno. E il mio collega Rosa ti farò vedere come si fa il controllo. Come si fa il controllo. Non va bene? No, niente. Togliamo il nome perché non mi piace. L'una cosa giusta è la cintura all'interno perché ovviamente non si deve vedere la parte lunga della cintura. Poi i pantaloni non sono piegati bene, si dovrebbero rispettare le pieghe. Come vedete, no? Hanno la piega. Dovrebbero essere rispettate. Poi, beh, il maglioncino è tutto storto. Non ci siamo. La bustina non si può toccare, quindi quella va bene. Invece la camicia è tutta asimmetria, come vedi qua. Questo è il tuo ruolo, tu controlli? Io sì, insieme a altri nove allievi. Siamo gli scelti che si occupano del primo anno. È un ruolo importante sia per noi che per gli allievi, anche perché siamo le uniche persone che loro vedono veramente 24 ore su 24. Cosa succede a questo ragazzo adesso? Beh, rapporto. Rapporto disciplinare, si viene mandato in rapporto, quindi l'allievo poi si deve recare in comando e deve parlare con il capitano. Questo è già da rapporto, la mancanza è da rapporto. È grave questo. È abbastanza grave. E perché, secondo te, non ho avuto tempo? Probabilmente non lo sapeva. O poteri anche non accorgertene. E gli spiga ha voluto che siamo passati da qui. Allora, in questo caso un po' spiga. Però... Mi sento in corso, cioè, la ragazza era interrogata e gli abbiamo rovinato l'interrogazione, questo ragazzo. Perché è importante che sia perfetto? Alla fine comunque è ordinato, cioè ci sarebbero, se dovessi la mia stanza, quando avevo 13 anni, forse erano a terra queste cose. Perché deve essere perfetto? Allora, punto uno, io ti direi il motivo principale, che è la cura della divisa. Cioè, un militare si riconosce proprio perché ha la divisa addosso. E poi perché racchiude tutti i valori, no? Cioè, la stessa divisa che portiamo noi, cento anni fa, li portavo a un militare che ci è morto con la stessa divisa. E poi perché ovviamente i militari devono fare tutte le cose che fanno fatte bene. Nei minimi particolari. E sì, è una banalità, è una camicia, sono dei pantaloni, però è proprio dalla camicia dei pantaloni che uno insiste per ottenere gli obiettivi più grandi. Se uno non parte dalla base non ottiene niente. Sono sempre stato un po' allergico alla ricerca della perfezione senza uno scopo chiaro. Ma ascoltando questi ragazzi mi accorgo che tutte queste regole hanno un senso ben preciso per il loro sogno. E il colonnello aveva proprio ragione. Viene data la possibilità al ragazzo di cominciare a prendersi delle piccole responsabilità. Quando loro fanno, diciamo, l'allievo responsabile per il loro corso nella giornata e devono sapere dove sono i loro colleghi, ecco, questi sono piccoli momenti in cui la disciplina ti insegna e ti accompagna a prenderti inizialmente piccole responsabilità perché poi noi ti dobbiamo addestrare o ti vogliamo aiutare a imparare questo per poi uscire e prendere sempre maggiori responsabilità. Questo è il senso di questa disciplina. E per te cosa vuol dire essere militare? Ma racchiude tantissime cose essere militare. Alla base c'è il mio sogno. Io vorrei diventare ingegnere, dopodiché il mio sogno culminante sarebbe quello di diventare astronauta. Quindi sì, l'idea di poter diventare un Luca Parmitano del futuro proprio mi piace. Qui chiaramente non tutti hanno già il sogno di diventare piloti, però tu mi sai che sei determinatissima. Ebbene sì, io ho fin da piccola maturato la passione per il volo. Da piccola volevo fare l'astronauta. Comunque cercherò di avvicinarmi il più possibile verso il cielo, verso comunque staccare i piedi da terra. Sì, sto provando quest'anno il concorso per l'Accademia Aeronautica e spero comunque di poter riuscire a continuare il mio percorso nelle forze armate, in particolar modo nell'aeronautica militare, dato che appunto la mia passione è grande, è forte. Durante questi tre anni si è intensificata sempre più. E al primo anno ad ogni studente viene dato un accessorio molto speciale. La spada ricorda al cavaliere di proteggere sempre i deboli e gli indifesi. Però diciamo sempre, il cavaliere non è tale solo perché ha una spada, lo è perché accetta un insieme di valori fondanti dell'ordine. Quindi è questo che gli diciamo. Voi avete questa spada, abbiatene cura, ricordatevi che dietro la spada ci sono valori ed è quello, e tradizioni, che sono quelle nostre dell'aeronautica militare, così come per le altre scuole, però è un bel simbolo. Adesso butto tutto giù, come insegnare anche Spiderman. Bravo! La evito, la posso dire. E' vero! Assolutamente vero, assolutamente vero. La prima fila a sinistra, tutte le altre seguite, abbiamo corso avanti marmai. Loro sono gli allievi del primo corso, adesso andiamo a mensa insieme a loro. Sono i suoi allievi? Sì, sono i miei allievi. Cosa si mangia oggi? Non lo so, però quello che si trova nel piatto bisogna mangiarlo, perché c'è solo quello, non si ha la possibilità di scegliere. Lo dico adesso, prima che vediamo. Io l'unica cosa che non mangio sono i capperi. I finotti bollitini anche. Visto che è il tuo compito, spiegami le regole. Il bontò militare si può dire? Sì, è un vero e proprio bontò. Bisogna sempre pulirci prima e dopo aver bevuto la bocca con il fazzoletto. Si è ingorzarsi con un boccone troppo grande, non è corretto. Come anche prendere il pane e mangiarlo a morsi, non si può fare. Lo si deve dividere in piccoli pezzi e portare alla bocca. Le gambe devono essere piegate a 90 gradi. I piedi devono essere sempre uniti, ma queste non sono ammenza anche in tutte le posizioni che assumono al primo anno gli allievi, quindi anche in classe quando studiano, anche quando stanno parlando con qualcuno, devono sempre sedersi in posizione corretta. Bocchi, gioco. Quattro litri dal nostro canale. Domanda, se tu controlli tutti, chi controlla te? Allora, al terzo anno abbiamo la fortuna, sfortuna, che a controllarci sono solo o ufficiali o sotto ufficiali. Quindi sono di meno, però è anche vero che ovviamente se si viene ripresi da un ufficiale o dal sotto ufficiale, ha qualcosa di più. Ovviamente, cosa ce l'ho preparato? Fino a chi cozi. Mangiamo che si creda. Non ci credo. Questa è la... È il dalle giù di marfi, sì. Sfiga. Sfiga. A me non piace una cosa e una cosa ma la trovo più. Ma mangerò tutto, vero? Come abbiamo detto. Dopo aver buttato giù fino all'ultimo finocchio gratinato, era ora di andare a seguire una lezione pratica di tiro al bersaglio con i ragazzi. Sali, impugnandovi la tua alma, vai su, ispirando, scendi piano piano, buttando fuori poca aria, pieno in apnea e vai nella zona di mira. Oh! Hai visto? Dieci! Dieci! Eh, ma vedi, allora... Beh, perché l'ha finito. Ci iscriviamo subito! E il giorno dopo ero già in pista con il sessantesimo stormo di Guidonia per dominare i cieli. Il paracadute è tutto il paracadute. E... Il paracadute. Aspetta. Questo è... Nessuno... Vabbè. Questa è la sorpresa. Ragazzi, perché il paracadute? E come la tiro, così? La si tira così, la si prende con questa mano, tutta la forza la si apre. Speriamo che... E' da due giorni che Klaus non mi dice niente, ogni volta mi ritrovo in situazioni da... La barzelletta. No, che non lo so... Non è che mi ha detto, guarda, ti metteranno un paracadute. Voglio farvi una domanda, ragazzi. Qualcuno ha mai usato il paracadute? Giuseppe, allora, sei pronta a vedere un po' il mondo sottosopra? No. Facciamo un looping, ok? Quindi che cosa facciamo? Ci sentiamo giù. Defendere... Oh, mio Dio! Questo è il rovetto, sotto e sopra. Stiamo galleggiando il V2. Votrò ci fa, di nuovo. Oh, che cazzo. Grande F7, com'è? Bellissimo! Wow, pazzesco. Ora capisco benissimo perché tutti i sacrifici e tutta la determinazione di questi ragazzi verrà ripagata alla fine. E mentre cerco di non vomitare, mi vengono in mente le risposte che avevo ricevuto il giorno prima la mia classica domanda, cos'è per te la felicità? La forma più intensa di felicità che ho provato e che vorrei riprovare è quella derivante dalla mia personale realizzazione. Il poter vedere, dopo tutto lo sforzo che si è fatto, i propri risultati e raggiungere un obiettivo che ci siamo prefissati. La mia passione è volare e quando un giorno se potrò guardare il collega che avrò nell'aereo accanto e vedere in lui la stessa passione che arde dentro di me, allora sì, quel giorno potrò dire che sono stata felice. Per me la felicità può essere il volo che è il mio grande sogno, la mia passione, che mi piacerebbe un po' coronare. Però non tanto l'aereo in sé. Quella per me non è la felicità. Per me la felicità è il saper di essere utile. Io spero che quello che è il mio obiettivo potrà essere raggiunto, ossia continuare a stare in questa bellissima famiglia. Quella che la famiglia per me dà un anno e mezzo, ma quella che vorrò sarà sempre con me e quella che mi porterà, spero, una volta, essere pilota. Questa l'ho sentita di più. È stato bellissimo, solo che la brioche un po'... Il generale però mi dà la vita, c'entra un po' Top Gun nella sua carriera nell'aereo nautico o no? Io immagino che questa risposta rimanga tra noi. Tra di noi, non la sente nessuno. Io devo dire che sto aspettando la seconda parte, quella che dovrebbe uscire, che doveva uscire e non dovrebbe uscire. Quindi da questo penso di non aggiungere più nient'altro. Niente.